gli asmr risposte autonome di puro benessere che un essere umano va ad avere in questo video di oggi vengo a trattare l'argomento relativo agli asmr che cosa sono diciamo che sono delle risposte buone positive che il nostro corpo che il nostro cervello va ad avere nel momento in cui percepisce sensazioni che vengono a lui stesso elargite da parte per esempio di una fonte sonora nel momento in cui noi stiamo bene entriamo quasi in una sorta di nirvana filosofico noi ci sentiamo in una condizione di puro benessere questo benessere ci perviene questo benessere ci arriva questo benessere ci invade il corpo e soprattutto la testa e deriva da per esempio qualcuno che produce dei rumori a noi molto piacevoli che vengono ad arrivare al nostro cervello e noi abbiamo una risposta talmente autonoma talmente buona talmente positiva che proviamo una sorta di orgasmo va bene gli asmr riescono a farci provare degli orgasmi sono gli orgasmi dell'udito e soprattutto del cervello che vengono ad essere provati da determinati esseri umani va bene ora ieri ho partecipato ad una live dove io ero il protagonista una ragazza siciliana di 23 anni di età pratica gli asmr e è entrata nella mia live lei stessa entrando mi ha fatto pensare di realizzare questo video che ho di oggi va bene e io vi posso dire che gli asmr danno di fatto delle garanzie trasmettono un benessere talmente profondo talmente immenso che secondo me un uomo riuscirebbe a eiaculare grazie a percepire questi rumori di puro piacere di puro benessere che vengono ad essere erargiti da ragazze e donne che hanno una voce molto calda e piacente anche perché ascoltando questi rumori così buoni così belli così piacevoli si percepisce una sorta di calore umano che proviene da donne e da ragazze che vanno gli asmr ma anche da uomini che gli uomini utilizzano per esempio alcune parti del corpo che magari producono dei rumori talmente positivi che avviene la risposta sensoriale chiamata asmr va bene ora dove voglio arrivare dove vuole arrivare il conoscitore italiano leandolo di roma vuole arrivare un fatto molto semplice ossia che da ogni punto di vista da tutti i punti di vista gli asmr è risaputo che facciano bene quindi aiutare migliorare la propria risposta apicale con gli asmr significa aiutarsi aiutare significa stare bene significa de facto trascorrere momenti di puro benessere e io sono convinto che un uomo un uomo parlo ora di uomo un po' parlo di donna riesce a eiaculare facile grazie agli asmr probabilmente sto azzardando a dire delle cose strane strampalate però secondo me io penso questo ora io penso che un uomo per esempio se va sugli asmr di youtube probabilmente avrà la voglia di masturbarsi specie in periodi quarantena come questi va bene ora non mi prendete per passo ma questa è la mia opinione va bene una donna pure una donna secondo me però la donna già di meno la donna non tanto probabilmente riuscirà a provare un piacere uditivo sensoriale psicologico ma non andrà a toccarsi non andrà a masturbarsi l'uomo invece da che mondo è il mondo da quello è uomo da quello è il gingillo che gli diventa eretto che gli si allunga che gli si allarga ecco che molto probabilmente andrà a compiere gesti di autoerotismo quindi a masturbarsi va bene e questa è la mia opinione un'opinione che non pretende di essere vera ma come dico sempre nei miei video pretende di essere diffusa pretende di essere trasmessa la trasmissione che deriva dal mio cuore o meglio dal mio cervello dalla mia bocca è una trasmissione che secondo me descrive la realtà dei fatti una trasmissione che secondo me descrive a tutti gli effetti quella che è la realtà una realtà che oggettivamente deve essere guardata vista analizzata e che deve essere anche apprezzata in molti casi va bene detto questo io non voglio aggiungere altro non mi vado aggiungere altro però vi lascio riflettere vi lascio agire vi lascio capire che le mie parole non dico che sono vera al 100 per cento ma per buona parte io considero le mie parole vere io a me piacerebbe conoscere una ragazza una donna che realizza asmr chieda qualsiasi donna del mio canale di palesarsi e magari da aggiungermi anche su whatsapp e su facebook va bene su facebook basta che mi cercate una donna una ragazza e mi trovo bene anche sulla pagina conoscitore italiano poi sarò io stesso a contattarla per parlare per scambiare opinioni riguardanti asmr va bene detto ciò grazie a tutti dal vostro leandro il conoscitore italiano di youtube italia iscrivetevi al mio canale che è quello qua che è questo qua che state vedendo ora datemi le vostre opinioni ci tengo ad averle per me sono sacri opinioni altrui e voi cosa ne pensate esimi utenti di youtube degli asmr coincide la vostra opinione con la mia o è diversa fatemelo sapere attraverso uno più commenti ciao dal vostro leandro conoscitore italiano di youtube italia